E bene a tutti ragazzi, oggi siamo in un nuovo video di Destiny, sempre nella serie di Destiny e sempre con Samuele Ok, tutti e tre livello, tutti e tre, tutti e due livello tre Lui che ha preso lo stregone Dove andiamo? Ok, il suo schedrone, il suo stregone, tutto faigo faigo, io con il mio cacciatore più figo, figo figo Ok, andiamo Sua terra, il spartiacque Ok Dai che io lo devo fare Ma siamo troppo fardi E? E? È rimasto così I caduti sono ricominciato È una fortuna aver trovato questa Io mi ricordo tutto, sto a livello 40 questo stregone Proteggere la città Però certe persone non me le ricordo Tipo questa Ma qui mi ricordo, dai? Abbiamo battuto e caduti una volta Possiamo rifarlo Io ho già dei piedi E delle braccia Che mi proteggono 22 Però per livello 4 Quindi devo salire assolutamente A modo Ma perché non mi ha fatto so Guarda Tu puoi planare? Guarda io Posso fare il doppio salto Guarda io È meglio la plana Il plano Non c'abbiamo il veicolo Vieni, corri E vocale spietro Anch'io ho delle cose Delle portazioni A livello 40 20 E 30 Però uno di livello 40 è una cosa Poi di livello 8 Eh, devi sbloccare a livello 40 No, a livello 8 Ti proteggi Ti proteggi 40 Sì, già Devo andare a livello 8 A me solamente 22 Eh, io devo arrivare a livello 4 Per 22 Quindi se me la compro anch'io Eh, anch'io Qui ci stanno sti cosi bastardi Che ti ricordi la missione che abbiamo fatto? Questi cosi Madonna Guarda un po' Tu spingi R1 E dai quello Guarda io Il coltellino E poi io Se prendo l'altra abilità Cioè l'altra Cioè l'altra mossa Capito? Praticamente posso anche tirarlo Il coltello Mettiti giù Mettiti giù Io ci posso avere un'altra Io un'altra ma Uno può sapere un'altra Eh sì però A livello 15 La sblocchi L'altra mossa Anche sul tuo titano A livello 15 Cazzo è il pezzo di mezzo Oh ma è rotto Ti ammazzo Hai capito Oh che forza Che forza Oh Oh C'hai ragione Eh allora Quanti iscriviti Quanti mi piace Vogliamo Eh Anche in questo video O dieci O cinque Ha detto Oh ma Dove come una nave Andiamo vieni vieni Non ci abbiamo il veicolo Dove vuoi andare Qui dove ci segna di andare Corri Dan Vieni Salto Andiamo Corri 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 Ok siamo tornati Cerco il propulsore Eh ma dai Oh no È già nelle mani Del cadu Attento Rientro Limitato Qua se muori Se muori tu E muoro Io ci fa ricominciare Tutto lo capo Attento Attento E non morire Perché se muori tu poi Io non ce la faccio da solo E quindi muoro pure io E dobbiamo ricominciare Tutto da capo E tu non lo vuoi questo Vero? No Non moriamo mai Eh guarda un po' Io sto per morire Eh io ho tutta la nida Adesso Adesso Dietro No Minchia Io lo posso Cecchinare Vai io lo cecchino Vai che lo cecchino Cazzo Mi hai fuggito? Cazzo Sta qua Sta qua Oh cazzo Scappa Oh io quando potrò La mia abilità Voi sapete qual è? Che c'ho una pistola di fuoco Però ancora la devo sbloccare La sblocco penso a livello 4 Vai La tua eh Vedi Basta che vai sull'inventario Vai sulla tua mossa E ci spingi triangolo E vedi a che livello La sblocchi Oh guarda quanto E vedi anche cos'è Cosa ti fa Vai Oh yes Pem per nana Oh Come teosi Andiamo Oh sto quasi a livello 4 Manca pochissimo Io pure Manca pochissimo Addio amico 14 13 12 10 9 9 9 8 8 5 4 3 3 3 3 3 Addio 3 3 2 3 2 3 Pistola d'oro Cioè il pistolero C'è un po' la sblocco c'è i guanti rosa no che schifo vabbè pure te ce l'hai avuti che fordì e proteggono 18 capito no io non ce l'ho avuti sul mio stracone e con me però mi aveva realizzato codice del cuore è un attimo dalla ragazza qui è il nostro babbo ora sono no mi data mi data mi data mi data mi data no mi data ehi vuoi morire? ma che 18 non cambia niente ne rava ehi 30 a 10 eccomi metti la destinazione eh un attimo ok c'ho i guanti che mi proteggono 19 adesso ho di luce 9 io pure di luce 9 ah e ho sbloccato una una pistola duca mk.10 17 d'attacco 10 10 di luce adesso ok, cosa facciamo? dobbiamo andare prima sulla torre e poi possiamo fare un'altra missione ahh ah non ho sbloccato niente 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 ah ah ehi che ridere ma io ho sbloccato il cecchino madama che schifo Poi lo schiava il mago! Oh, il mago! Oh, guarda che il mago è più forte di tutti! Che poi si chiama Sergoni, cretino! E' la Pippo qua! A livello 3 da Pippo, ok? Ma il video che fin ha fatto? Lo stiamo facendo! Io sto mancando! No, io no! Tu sei povero, non puoi mangiare! Bravo! No, io a te c'ho qualcosa di mangiare! Padre! Padre tu! Madre! Madro! Madro! Ma il supply! Sono mangiati! ジ eaa Oh, no! 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 Ci sono mangiati il mio supply! Dove stai? Emanuele! Vieni a vedere il mio cacciatore C'è una faccia a faccia Guardami Aspetta Guardalo il cacciatore che bello che fa Guardami Samu guardami Samu Guardami Samu Guarda Guarda il cacciatore Guarda Andiamo Vediamo un attimo Prende qualcosa qua Vai Ok questo è quello che mi doveva La missione 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 Voglio andare al livello 4 Anche io Guardiano Che si dice Cosa un cacciatore Ah che si dice Si dice un cacciatore Mi posso comprare Mi posso comprare Oh io a livello 8 sblocco 2 Un casco Un casco E un E dei braccia Delle braccia Che proteggono 43 Non vedi Non vedi Cosa va di bellezza ragazzi Che volevi Guarda Guarda che faccio Benvenuti Benvenuti in questa caccia di missione Un attimo Ok andiamo Andiamo Spengo Ritorno in orbita Un attimo Devo andare in una parte Decidete Sto dietro Eh se no non mi do la missione Vuoi fare la missione Stiamo a fare la gara Stiamo a fare la gara Attenzione Sto vincendo Emanuele Sto vincendo Emanuele Samuele Samuele Può recuperare No Samuele No No Attenzione Samuele 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 Può recuperare Samuele Può recuperare Samuele Samuele Non può recuperare Vai 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 Cristiano 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 No Cristiano Cristiano Ronaldo Non può recuperare Samuele Può recuperare Samuele Può tutto da me ha recuperato ma come cazzo ma no ma no ha recuperato ha recuperato la web ha recuperato recuperati ma va a botta il nome va a botta ma va a botta parla perché sono paloni io gioco a calcio un attimo fermo azione vieni a giocare a calcio un animo no dove fai azione a giocare troppo tardi e va tappiando non detto niente ma mi dia missione ritorno a navidormi cina a cina ragazzi due saremmo molto molto amici quindi spero che questa serie continui con lui soprattutto molto pippe già questa serie continuerà a due condizioni che voi mettere molti pollici in su e che lui non mi fa incazzare perché se mi fa incazzare io l'abbandono lo blocco dagli amici e lo levo ciao posso anche se lo dà addio no no stavolta davvero dai questi cattaccio di navi sbrigatele c'è un mucca torcio guarda che te supero guarda come l'ho superato no era tutto vince io che voglio guarda che la nave a destra era la mia cittadina e me non la dino e di meno e dove o 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 celeste raggiungi le vecchie cupole di comunicazione e scopri cosa stanno proteggendo i caduti ma non me va la fermata la bono ma no capo emanuele scappa perché perché si non aspetti però ma aspetti che me stanno quasi ammazzato dove niente sei l'importante è che me li aspettava più andiamo no no andiamo ma tu dicevi che era tanto forte questo igone è una pippa in realtà è una pippa eh perché a sto livello guarda quando sali di livello almeno 10 o 15 sei mega con lo stergone ma tanto non ci arriverò mai arriverò mai ma se fra un po' sei già a livello 4 fra un po' andiamo beh beh hai visto quanto vuoi dopo facciamo un po' di 3 contro 3 se ce lo fa fa però io sto con te ah ah 3 contro 3 se stai con 2 o con 1 nel party ti mette una squadra insieme cos'è che 3 contro 3 io voglio di stare con te parimo la capita la capita la capita la capita no la capita la capita cacchio la ci do io la ci do io oh cacchio oh forza miseria guarda quanto gli faccio male col coltello non è uccido con due secondi e due mani con le mani andiamo 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 questo pure il 3 grande a happy j67 ma che cazzo andiamocene è un fratello nostro attento che c'è il rientro limitato no no non mi avevo detto niente alza alza dai eh alzamo dammi la bocciata e buca lo sprezzo lo spazzo oh ma me lo prevo da me no guarda il mio quanto è più figo il mio è più bello è perché non è uguale certo no il tuo è brutto sport è brutto attento qua mi pare che ci stanno quelli la velocissimi te lo ricordi che ti ammazzano assaltandoti che poi certe volte certi hanno le bombe attento non mi piace per niente perché sta cazzo di musica mi inquieta mi fa paura vai prima tu vai prima tu prima tu insieme insieme vieni vai vieni a fianco a me ma le cazzo me ne frega oh cazzo omigia aaaah sei un pezzente lascia il tuo miglior amico da soli ti peso ci stanno dietro omigia tieni ho tutto coraggio sta arrivando va fatene conti no tu no tu no un attimo che mi prendo il fucile veloce siete tutti morti io c'avevo paura madonna io che c'avevo paura ma che fifone che sono ah perché io un attimo che mi stanno a sudare le mani ah 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 da madonna addio gli ho fatto un cazzo non vedo l'ora un attimo che diventa un mega ora ti aiuto un attimo che mi cambia aspetto 17 di difesa il casco braccia 22 di difesa piedi 22 di difesa il tutto di luce 13 adesso ho anche l'ha mai capito appena mi si carica siete tutti morti perché appena mi si carica diventerò un cacciatore con la con la pistola di fuoco o cazzo c'è la magliarda c'è la magliarda vieni ad aiutarmi vieni ad aiutarmi ma a parte che c'è pochissima vita voleva io maggior parte ma degli altri va tutta io ecco l'ho uccisa ma non ci va io a livello 4 serio dal livello 4 bravo 22 di difesa 21 di differenza il mio cacciatore adesso 19 di difesa basta che figo si è bellissimo si è bellissimo come so bello brutto bello abbastanza ah no il coltello da lancio lo sblocco in questa abilità oh oh fra po' beh coltello da lancio io adesso devo andare un attimo al bagno eh mo torno un attimo portino tu il video un attimo ho troccato il cappello 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 ti ho rato il cappello cappello me lo metto e me lo metto 22 di difesa di difesa eccomi guarda quanto so figo un attimo facciamo un'altra missione ti va si ma guarda quanto so figo c'è bellissimo via oh livello 4 wow tac che dici il cecchino che di attacco 5 me lo tengo o no me lo levo perché ho sbloccato il fucile a pompa 22 d'attacco vabbè me lo tengo se magari devo cecchinare me lo tengo io ho messo intanto il fucile a pompa da 24 anche io 22 perché è più forte lo sai del cerchino hai notato che siamo nello stesso livello e stiamo salendo allo stesso c'è tu stai a 17 di luce io ho 18 visto vabbè tu devono in più però che vuol dire stiamo sempre alla paglia dice che i caduti stanno analizzando a tutti più io sto a 15 di luce io 18 no tu 17 ho controllato ma io 18 ora che ho controllato a me dice 18 non vedo l'ora da arriva al velo 25 così almeno ci avrò la l'arco mega potente del re ricorrotti ma tu guardami quanto sono figo guardami e ti piace io si aspetta proprio per me cambiarlo perché questa cosa abbastanza scusa mezzo di trasporto dalle vecchie piccolo non veniamo sì ma quanta dura ancora studio in tutto ho messo il limite video che dura un'ora quindi finché non blocco io se blocca da solo tra un'ora capito quindi abbiamo tempo che fa ancora altre cinque missioni però facciamo questa e poi faremo un altro video che andiamo bene allora ai prossimi ti faccio ucciderti ok troppo aspetta 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 non mosa ne vado ancora le scarpe oggi di scuola ancora no perché io sono andato in palestra e quindi mi esodo delle va per forza andiamo ma aia cacciatore di merda aia dai dai ma dai passa qui che basso qui in meggio bravo non so chi ma no dove sei guardami ma io vedo solamente il nome poi ti vedo invisibile 4 samuele il gastoro ma come sto flutturando ma come io vedo solamente il nome comunque perché mi sta caricando ma da quanto ma se la galacca io aspetto un'ora no allora rimani così ciao come si fa di uscire spingi il touchscreen poi tieni premuto il triangolo vanda in orbita poi dimmi quando hai fatto che ti invito io nella partita all'inizio dove stai bene sbloccato la nave se la nave invitami quindi adesso l'hai sbloccato anche tu giocatori samuele samuele invito nato scuola un attimo video giocatore ok fatto diamo aspetti non è arrivato aspetta sapevo che sarebbe finita così oh cazzo dove sei mi sta ancora a navigare la nave oh minchia si ma corri perché mi servi al più prezzo cazzo son morto devi ricominciare da capo livello 5 livello 5 quindi ho sbloccato il coltello da lancio ah perché erano un invento ecco perché sono arrivato a 5 ma se entravi prima era un evento quindi sono arrivato subito al livello 5 peccato che non c'eri se non così arrivavi subito al livello 5 anche tu dai quanto ti ci vuole per entrare non ho capito ci avviciniamo alla spiaggia i caduti stanno usando degli amplificatori di segnale vediamo cosa trasmettono dai a che tempo ecco mi stai arrivato ok oh voglio provare subito il mio coltello da la Quanto è figo No, dove stai? Sono entrato? Sì Però dove stai? Ok, sei entrato, sì Oh cazzo, mi servi subito, immediatamente No, 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 non mi servi Però corri comunque Solo un momento Ok, eccoci Vai, corri a venire Dove stai? Qua dentro? Dove stai? Qui Non vedi il nome? Dentro la grotta? Quale grotta? Dove cazzo sei? Essi da quella cazzo di grotta Tu lo vedi il mio nome? Sì Tu l'hai sopassato un fiume? Sì Vai, vai dritto in quel fiume Vai, corri che si andrà bene Oh, posso utilizzare il veicolo Bravo, te l'ho detto Vieni, vieni Vieni, vieni Corri tutto il fiume Bravo Vieni Eccoti Bello ciccio, vieni Dove stai andando? Vieni Guarda che frigo il mio cacciatore sulla mia moto Guarda il mio stregone Ok, levo la moto Oh, adesso tu stai dietro a me Guarda Tra un po' Appena c'è un boss Molto forte Ti faccio vedere la mia abilità E me lo faccio a me Vai Uccidi questi Sicuro che ce la fai da solo Non ti aiuto? Sì, non mi do Vai, ti faccio vedere la mia abilità Guarda che potenza Con un colpo ucciso Il capitano Pistola di fuoco Che visto? C'è una supercarica Hai visto la mia supercarica? Eh? La pistola di fuoco Ti provo a me uccide Così arrivo anche io a livello 5 Ok, ti faccio uccidere tutti Tutti lavorano a qualcosa in fondo alla stanza Attento che qua ci stanno quelli invisibili Cazzo Però li vedi un pochino Madonna che abilità Eh, è fortissima quell'abilità Oddio L'hai perso davanti e non l'avevo visto Morici Ok, tu proteggimi Io avevo con lo spettro Proteggimi Oh, capitano Morici Ho ucciso il capitano Guarda Guarda Samu Guarda Samu guardami Visto? Ho il tello da lancio Attento C'è un'inforzata C'è un'inforzata Di morti Che stanno per uscire Ah no Sono già morti Grazie a noi Io sto per morire Io sto per morire Attento Vai vai Uccidi tutti tu Così Sali di livello Eh, c'è un capitano Molto raggiunto Ti aiuto No, no, ce l'ho la vita Va bene Proteggiti anche, eh Schiva Col cerchio Che ti metti giù Poi magari corri E tieni premuto il cerchio Così magari scivoli Ho ammesso il capitano Del cacchio Ho chiuso il capitano Bra Ancora Non c'è da me Ancora Ancora Io sto moriti Ti aiuto Eh, no Ok Oh Fuce la poppa Sbloccato Che 27 di danno Il mio faceva Solamente 22 No Che cretino L'hai stato Alla Sprecata Vabbè Ti aiuto No Ormai Sto dal capitano Vabbè Ti ho tirato Una bomba Senti va Pistolazzo Di fuoco Yeah C'è il capitano Tutto tuo Tutto tuo Il capitano Così dovresti salire Il livello Ok Vai Ucciso Bravo E ancora Non si è salito Ci hanno ucciso I due Mi stanno uccidendo Vieni che fra un po' Sali Se uccidi questi Se uccidi questi Sali Sicuramente Mi sta uccidendo Servitore Vabbè Uno lo uccido Io Uno lo uccidi Tu A te Non c'è Tutti I due Tu Così almeno Sali Di livello Ho ucciso Ho ucciso L'occhio Adesso un altro Occhio Dove? Lì davanti a me Ce penso io Il servitore Lo sto rompendo Lo vedi? Ma Parli Dai si parla anche con gli iscritti Magari Ciao 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 Senti io devo lavorare Ok Livello 6 Livello 5 Livello 6 Sì adesso livello 5 Aspetta Cos'ho sbloccato Vi è dimenticata Addestramento Incentrato Su resistenza E velocità Questa è raspo Una IA Creata per difendere la terra Aspetta Che sta proteggendo qualcosa qui nel cosmo Informerò la vanguardia Andiamo sulla torre E devo No perché sulla torre Eh almeno Adesso andiamo sulla torre Così almeno Io sai che faccio Vuoi sapere Vuoi sapere Così almeno Sulla torre Io Io c'ho un engramma Che mi fa sbloccare Se vado sulla torre E lo schiudo Mi fa sbloccare La terza arma Cioè quella fortissima Cosa devi schiudere? L'uovo No l'uovo L'engramma Vabbè io chiamo L'engramma Io dico Lo devo schiudere Lo posso schiudere L'uovo E ce lo devi avere Vedi se ci fanno iscritti Engramma Tipo Vai sul Vai sull'inventario Già E poi Attimo Ho sbloccato Il casco 34 ore difesa Poi vai sulla terza arma E' troppo tardi E c'hai Dopo Un engramma cifrato Che c'è scritto Engramma cifrato Che mi è uscito Da solo Che inizio che ho fatto Che sto filmato Nel cavolo Perché sto da solo Perché io vedo solo me E tu vedi solo te Un attimo Poi quando finisce il suo filmato Ci rivediamo C'era un tempo In cui eravamo Molto più potenti Ma appartiene al passato Fino a quando Non si sveglierà Sarò io La voce del viaggiatore Le tue domande Saranno senza fine Guardiano In punto di morte Il viaggiatore Creò gli spettri Per cercare Chi è in grado Di usare la sua luce Come arma Guardiani Capaci di proteggerci E fare ciò Che il viaggiatore Non può Cosa gli è successo? Potrei parlarti Della grande battaglia Secoli fa Scusa Ti posso dire la domanda? Eh Ma quando Dovevo caricare Sì sti video? Io sto diventando Drogato di Destiny Sia da quando Ti ho conosciuto E sia da quando Ho cominciato a rigiocare Io ho cominciato A rigiocare Su Destiny Per te Che adesso Mi sta piacendo Tantissimo Ma quando Lo carichi L'oscurità Sta tornando Questa volta Non ce la faremo Quando lo carichi Il video? Questo Appena Lo fa caricare Devi combattere L'oscurità I guardiani Locano sulla terra E altrove Unisci Domani è sabato Si può giocare Quanto ci pare? Arriviamo fino A livello 27 Guarda Tanto domani è sabato Tu 28 Io 27 Siamo una squadra Siamo una squadra Spettro Io ti amo Ti immagini Io te A livello 40 Che pensi Con stanotte? Con stanotte Arriviamo A 39 Di livello E poi Da domani Non possiamo Mai più giocare Perché I nostri I nostri genitori Non ci fanno più giocare Perché Stiamo diventando Pazzi Ti immagini E stavamo A livello 39 Quasi 40 Madonna Io mi ammazzo Eppure io Metti destinazione Metti destinazione Ok devo andare un attimo Solo a te Ho sbloccato la luna Ok raga Ora concludo il video Fra un po' C'è un po' Metti destinazione Metti destinazione Metti destinazione muoio per lui io muoio per il cazzo duro bravo bravo tu non muori tu non muori io non muoro perché ho cazzo duro non ti comportare bene la logica della fisica non ti comportare bene ho detto comporta di mare ma che mi feca del comportamento io sono drogato io spaccio cocaina no questa qua no spaccio cocaina gratis guarda che bello questo secondo anno è un cacciatore voglio diventare come lui ti piace un attimo che ti guarda io voglio diventare come lui ti piaccio io si guarda un po guarda fra un po guarda a dove arriva a livello 11 aspetta guarda 30 di difesa gli stivali nuovi che c'ho guarda guarda che bello è un figo è la data cosa mi devi dare 2 thunder la certa impresa ok vai dai vediamo cosa ci vendi qui ho capito capito c'entra presa si non ora mi interessa niente guardami guarda guarda un po c'ho il mantello dietro piccolino ti piaccio? eh eh? come hai fatto? eh perchè il cacciatore solo può averlo tu poi avrai tutta la camicia che arriverà tutto fino ai piedi e sarà bellissima io invece solo questo si forte guardiamo poi il mio sarà sempre più lungo però non sarà come il tuo tutto così 27 difese al corpo vediamo se è bello è abbastanza cosa vuoi stregona stregona questo qua è solo per lo stregone oh che vuole oh mi doveva parlare oh 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 mi hai capito che te devi levare levate levate guardate come c'è sta dietro guarda guarda che maniaco che maniaco che maniaco ne vado scappo e si spezza dove vai? eeeeh ma da far zancuto di GTA oddio pozzatemi marda e' l'ho portato l'ho portato e' l'ho portato e' l'ho portato oooh e' l'ho portato mi sono comprato due armi aspetta, dov'è che lo vedevi nuovo? c'è scritto in gramma cifrato dove? da qualche parte vabbè ha concludo il video un saluto da Emanuele, un saluto da Samuele e al prossimo video